Il bello e il cattivo tempo, stasera ci troviamo al teatro La Basilica, qui a San Giovanni e troviamo, stranamente ma bene, mi piace dire questa cosa, una compagnia folta ultimamente si vedono le compagnie ristrette siamo in compagnia di Alessandro Di Murro, giusto, che è il regista di DNA che è l'acronimo di Dopo la Nuova Alba e adesso tu ci racconti che cosa è Allora, buonasera a tutti, siamo qui insieme a buona parte della compagnia mancano pochi elementi perché siamo ancora più numerosi in realtà Dopo la Nuova Alba è il testo di Antonio Giulio Calenda che è qui accanto a noi con cui apriamo questa prima parte della stagione del Teatro Basilica che abbiamo chiamato Frammenti è una stagione che arriva fino a dicembre ed è fatta di tanti spettacoli eterogenei ma caratterizzati da una forte necessità Dopo la Nuova Alba è il progetto che invece coinvolge il gruppo della Creta che è la compagnia residente del Teatro Basilica e qui ci sono un po' tutti i personaggi Allora, come ho detto, Anton Giulio è l'autore del testo che ci ha donato questo lavoro e dall'altra parte invece per i tecnici abbiamo Enea Chisci che è il compositore delle musiche dello spettacolo e poi ci sono i vari attori Maria Lumurno che è accanto Jacopo Cinque qua accanto a me c'è Eleonora Notaro Alessio Esposito e Laura Pannia quindi sono cinque attori ma come ci dicono da ieri che abbiamo debuttato a un certo punto sembrano otto, nove, dieci perché si moltiplicano in scena facendo più personaggi e raccontando situazioni di mondi lontani e diversi che raccontano l'arrivo o l'attraversamento verso un momento che è questa nuova alba ma forse questo ce lo racconta meglio Anton Giulio che è l'autore di questa opera Beh, hai già detto parecchio diciamo che sì, è l'auspicio affinché in particolare di questi tempi ci possa essere un evento quanto più luminoso possibile che possa separarci da un mondo un po' troppo oscuro diciamo così e questo è quello che ci dirà alla fine della storia il personaggio che interpreta la nostra bravissima Eleonora che chiuderà con un cappello poetico e questa vicenda che vede tanti come ha detto Alessandro personaggi abbiamo un ministro un po' conservatore interpretato da qui presente Iacopo Iacopo V e due pellegrini che attraversano il deserto che sono alla ricerca di qualcosa ma che un po' come in Aspettando Godot non sapremo mai bene che cosa e infine c'è la storia della giovane donna che è in qualche modo un po' la protagonista che è una giovane donna paziente che ha subito delle violenze che le hanno causato dei seri disturbi mentali per cui si trova in un centro per recupero insomma in qualche modo un centro psichiatrico e ci sono delle tinte sicuramente forti fosche ma è tutto indirizzato verso una sorta di grande redenzione di grande rinascita insomma che speriamo possa essere anche paradigmatico per il teatro in questo momento ok allora senza spoilerare altro perché la gente deve venire mai come in questo momento dovete venire a teatro e mai come in questo momento c'è bisogno di questi giovani che hanno voglia ancora di fare teatro siete in scena dal 30 ormai siete già andati in scena da ieri fino al 4 di fino al 4 fino a domenica 4 alle 21 venerdì sabato giovedì venerdì sabato e domenica il sabato e la domenica alle 17.45 torniamo anche la prossima settimana dall'8 all'11 sempre stesso orario giovedì sabato alle ore 21 e la domenica alle 17.45 vi aspettiamo e veniteci a trovare venite perché il fatto che hanno allungato vuol dire è segno buono insomma vuol dire che ha funzionato vi aspettiamo salutate salutate ciao grazie ciao 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 ciao